dire uomo, quello vuol dire, ma che carità, bene bene, sempre al lavoro, no, quello si, poi abbiamo la RAI a posto, o mo me lo porto tutte le fiere, o preparate, sono fine settimana, siamo a Norcia, qua a Milano, poi abbiamo Bastia Umbra, Bastia Umbra, prego se vuole assaggiare, a Morcia Umbra, prego se vuole assaggio, prognost Spiritcalled Umbra, prego e la crosses, passare, ma situazione, prognost aman, whichever è bella, più Ora, reg simplesmente nell'abbare lo stesso,"il Ovieliniz", P esseISSic定 è un'alto superベendosa, ma una besarma e una gala, Grazie.